simple show spiega perché preferire i prodotti certificati imq questo è mario mario e la sua famiglia devono traslocare in una nuova casa e hanno bisogno di alcuni prodotti elettrici mario va dal suo fornitore di fiducia ma è davvero difficile decidere qual è il prodotto più affidabile c'è così tanta scelta mario inizia a esaminare i prodotti alcuni riportano un simbolo verde arrotondato è il marchio imq lo potrà aiutare nella sua decisione certo che sì il marchio imq come le altre certificazioni rilasciate da imq è una garanzia di sicurezza e qualità ciascun prodotto deve sottoporsi a numerose e complesse procedure di verifica per poterlo meritare anzitutto gli ispettori imq verificano che l'azienda che lo produce sia dotata di attrezzature e procedure in grado di garantire che lo standard qualitativo venga rispettato anche nella produzione poi si passa al prodotto i tecnici imq prelevano alcuni campioni e li portano nei laboratori imq per esaminarli qui devono affrontare numerosi test nel rigoroso rispetto delle norme internazionali in pratica vengono sottoposti a quella che potremmo definire una sorta di tortura lo scopo verificare che i prodotti siano di qualità e sicuri per i consumatori solo se il prodotto supera questo impegnativo processo di prova potrà freggiarsi del marchio imq ma questa non è la fine della storia infatti imq sottopone anche la produzione a periodica sorveglianza per assicurarsi che una volta sul mercato i prodotti continuino a soddisfare i requisiti di sicurezza e qualità mario è contento adesso sa come riconoscere i prodotti che gli garantiscono di portare qualità affidabilità e sicurezza nella sua nuova casa adesso lui e la sua famiglia sono pronti per traslocare prodotti certificati imq lascia che la sicurezza entri nella tua casa